La triade commissariale alla guida del comune di Pagani fa muro contro muro con la regione Campania sul tema del ridimensionamento, la razionalizzazione della rete scolastica cittadina. Sulla scorta di una propria deliberazione, infatti, la regione si aspettava, da Pagani come da tutti gli altri comuni, la riduzione delle autonomie scolastiche presenti sul proprio territorio, così da contenere i costi di gestione. Ma i commissari Mazza, Scigliuzzo e Cassio dicono in parte no e preservano tutte e cinque le autonomie paganesi, la 57 rappresentata dalla scuola media Criscuolo, la 58 scuola media Sant'Alfonso, la 52 secondo circolo didattico Don Milani, la 53 terzo circolo didattico Collodi e la 55 primo circolo didattico Manzoni. Ciascuna delle autonomie scolastiche presenti sul territorio, annotano i commissari, soddisfano le esigenze del bacino di utenza, sono organizzate didatticamente con strutture adeguate e per le stesse sono a regime i servizi di mensa, di trasporto e di supporto da parte dell'ente locale e per questo non si toccano. Una sola concessione alle esigenze di riorganizzazione della regione Cassio, Scigliuzzo e Massa fanno la nascita di un istituto comprensivo tra la scuola media Sant'Alfonso dei Ligori e il plesso Carducci, facente parte del primo circolo didattico Manzoni, sottoponendo queste richieste alla provincia di Salerno e alla regione Campania, cosicché si tenga in debito conto scrivono della specificità del territorio.